Grazie. Secondo noi, secondo noi la libertà, che è già di bucana, non se ne so ancora, noi siamo al fronte di questo, se ne sono ancora, se ne sono ancora fascisti, a Roma sta rascendendo i fascisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.